Gli uomini della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane, sotto la continua spinta propulsiva della direzione distrettuale antimafia Regino, hanno intercettato un nuovo ed incente carico di cocaina. Questa volta, nascosti tra i sacchi contenenti gomme in granuli provenienti dal Sud America, sono stati rinvenuti ben 10 borsone contenenti 200 panetti di cocaina purissima, pari a 216 kg della letale sostanza. Il risultato è frutto della collaudata sinergia delle istituzioni, ormai consolidatesi mediante la predisposizione di piani di intervento complementari che mirano a contenere le manifestazioni di grave pericolo per la collettività conseguenti all'immissione nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti. Pericoli che si manifestano non solo negli effetti più immediati e deliteri, quali quelli connessi all'uso delle sostanze stupefacenti, ma anche e soprattutto quelli legati al reinvestimento nell'economia legale degli enormi capitali illecitamente lucrati. Basta infatti pensare che mentre all'origine un chilo di foglie di coca venne venduto dal coltivatore ad appena 78 centesimi di euro, lo stesso quantitativo di cocaina una volta definitivamente raffinato ha un costo di 1.800 euro per il produttore, il quale riesce a cederlo ai grossisti americani o europei tra i 25.000 e i 30.000 euro. Considerando che la cocaina può essere tagliata fino ad aumentare il peso di ben 4 volte e che al minuto spaccio un grammo di sostanza è ceduto a circa 100 euro, è facile immaginare quanto siano imponenti i volumi di denaro incamerati da chi gestisce il traffico.